Parte dalla sfida contro una rivale storica come la Fiorentina, la caccia della Juve al sesto scudetto di fila, impresa mai riuscita a nessuno nella storia del nostro campionato. I campioni d'Italia che hanno impreziosito la rosa con Iguain, Dani Alves, Pjanic e Benatia hanno l'obbligo di domenare il torneo, ma come ha detto Allegri tutte le partite cominciano da 0 a 0. I Viola dopo un precampionato terribile vogliono provare a sorprendere la Juve che allo stadion però ha vinto le ultime 16 partite. Di Bala, Chiellini, altro cross per Chedira! 1 a 0 Juve! La sblocca Sami Chedira dopo 37 minuti cade il muro Viola. Ricomincia Juve Fiorentina. A 66esimo comincia l'avventura in bianco nero di Gonzalo Iguain fuori Mandzukic. E arriva il gol di Kalinic! Un flash all'improvviso della Viola che rimette tutto in equilibrio al 70esimo. 1 a 1. Fra le linee Asamoa, poi il tocco dentro per Chedira, stop e mancino, deviazione, Iguain! Il Pipita! A 75esimo! Debuto con il gol in bianco nero! Sempre lui! Il Pipita! 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 Grazie a tutti.